Ciao, fansfegatati di Beautiful! Siete pronti a rimanere a bocca aperta? Abbiamo un'anticipazione che vi lascerà senza fiato. Quello che sta per succedere cambierà il destino dei nostri adorati personaggi per sempre. Taylor, stufa di essere il centro delle voci e delle pettegolezzi, decide di fare le valigie e scappare da Los Angeles. Il suo destino? Chicago, una città dove nessuno la conosce, un luogo dove spera di ricominciare da zero, lontana dai fantasmi del passato. Ma Steffi e Thomas non sono affatto d'accordo con la sua decisione. Preoccupati per la madre, cercano di fermarla. Temono che il loro legame si allenti con la distanza, ma Taylor è irremovibile. È convinta che questo cambiamento sia l'unico modo per ritrovare la serenità interiore. Tuttavia, il cuore di Steffi è spezzato. In colpa Ridge per aver spinto Taylor a prendere una decisione così drastica. Con un nodo alla gola, Taylor si imbarca sul volo per Chicago, ignara del destino che l'attendere. Ma il destino ha in serbo un tragico colpo di scena. Poco dopo il decollo, l'aereo in cui si trova Taylor subisce un terribile incidente e si schianta. Quella che doveva essere la sua nuova vita si trasforma in una tragica fine. La notizia dell'incidente si diffonde come un fulmine tra amici e familiari, lasciando tutti a bocca aperta. Ridge, devastato, si tormenta con il senso di colpa, convinto che le sue azioni abbiano spinto Taylor verso questo tragico destino. Steffi, nel suo dolore, non riesce a perdonare Ridge, accusandolo di essere la causa indiretta della decisione di Taylor. E mentre la comunità cerca di digerire questa dura realtà, Thomas e Steffi si trovano a dover immaginare un mondo senza Taylor. La loro rabbia e il dolore sono tangibili e la loro delusione verso Ridge è palpabile. Sarà difficile per loro trovare il modo di perdonarlo, considerando che le sue scelte hanno portato a questa tragedia. La perdita di Taylor è un dolore che brucia, una ferita profonda che non si rimargina facilmente. Questo momento oscuro lascerà un segno indelebile nel cuore di tutti i fan di Beautiful. Grazie mille per aver condiviso questo momento con noi. La scomparsa di Taylor segna un capitolo cupo nella storia della nostra amata serie. E voi? Come pensate che questo evento stravolgente cambierà il corso della trama? Condividete i vostri pensieri nei commenti qui sotto. E non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per restare sempre aggiornati sulle ultime novità e gli aggiornamenti più succulenti. Ci vediamo presto con nuove emozioni e colpi di scena.